Passione, passione è una parola forte, piena di energia, una parola che a me piace molto, fa fare agli uomini cose incredibili, muovere le montagne, raggiungere traguardi impensabili. È una parola che si applica in qualsiasi campo della vita. Nel lavoro, ad esempio, se c'è questa energia, i risultati si vedono. La passione ti porta sempre a metterti in discussione, in gioco, a non accontentarti del primo risultato che ottieni, quindi alla ricerca dell'eccellenza, come quando gioca a basket, l'ultimo tiro, il più difficile, con altre punti, è quello che ti dà più soddisfazione. Se lavori con questo spirito, i risultati arrivano e li leggi negli occhi dei tuoi clienti quando ti dicono grazie.